il richiamo di cthulhu il guardiano avrei potuto insistere come avrei potuto vietare la mia lili di partire non possiamo vivere nella paura e nel rimorso alexander ma non sa cosa sia realmente accaduto e non sa che alla fine ho sparato la bambina che ha ucciso volontariamente una bambina non sono tutti morti mio zio darcus è ancora vivo hanno trovato due famiglie assassinate mi spiace lillian io capitolo 10 queste possono andare bene janet sollevò lo sguardo sulle mele che ellen teneva in mano e a noi sì sono perfette per la torta hanno la consistenza giusta per prendiamole basta tagliò corto lillian dopo ciò che era avvenuto quella mattina nel salotto di chateaubriand manor la giovane ereditiera aveva dato sfogo a una serie di comportamenti contraddittori in quell'istante era di nuovo passata a detestare l'idea di festeggiare il compleanno di blake janet lo aveva annunciato durante il pranzo allo scopo di sollevare gli animi dei presenti ma il detective non era parso contento della sua proposta a sua volta lillian aveva bofonchiato un non sappiamo nemmeno quando sia il suo vero compleanno ma a sostegno di janet si era lanciato power back il quale aveva passato intere ore in silenzio riflettendo probabilmente sul racconto di blake secondo il medico austriaco fingere di essere un normale gruppo di amici o conoscenti riunitasi per una gioiosa occasione vi avrebbe aiutato a dimenticare per almeno una serata l'orrore che si stavano portando dietro la settimana helen si tentava a credere che appena sette giorni prima si era svegliata entusiasta per dover saltare la lezione di peabody e partecipare a una ricerca scientifica no lunedì scorso a quest'ora avevamo già trovato il cadavere di proctor su un punto janet e power back avevano ragione le indagini stavano andando a rilento il manicomio di greenville non sarebbe stato ripetibile fino al mattino successivo dunque meglio di vagare lo stesso power back aveva convinto blake a uscire per una passeggiata mentre le tre donne si occupavano della spesa ecco quello era stato il primo segnale ambiguo da parte di lillian janet avrebbe voluto organizzare la serata e aveva già preparato un elenco di acquisti da affidare a jeremy quando lillian aveva asserito che il maggiordomo fosse fin troppo carico di impegni quindi sarebbero andate loro tre al suo posto era stata una strana proposta da parte di una persona che appena qualche minuto prima si era detta contraria a festeggiare il compleanno dell'uomo con cui ce l'aveva a morte compleanno reale o inventato che fosse tuttavia janet aveva sorriso e si era dichiarata ben disposta a dedicarsi alle compere ellen sarebbe andata dunque con loro anche se lillian non l'avesse invitata perché conscia d'aver bisogno di una pausa si erano inoltrate nel merchant district il quartiere che divideva french hill e il campus dal miscatonic river ed erano state liete di trovare un mercato a cielo aperto nonostante il tempo perfino più ostile di lillian l'intenzione di janet era di acquistare il necessario per un pasto che restituisse loro il calore familiare e qualcosa suggeriva ellen che avrebbe insistito per apparecchiare il tavolo della cucina con grande disappunto di jeremy e lillian ma poco importava le interessava soltanto dedicarsi alla scelta delle mele perfette per la loro torta perché un pomeriggio voleva sentirsi frivola no non era vero voleva provare cosa significasse avere come unico problema il dilemma fra mele rosse e mele gialle avevano dei nomi ma lei non si era mai degnata di impararle grazie sussurrò improvvisamente janet alle sue orecchie ellen la guardò scoprendo un'espressione contrita dietro gli occhiali spessi di essere ancora qui intendo non avrei dovuto trascinarti in questa storia la colpa è di alexander quanto mia ellen non sapeva come reagire perché le parole di janet non avevano senso era stata lei a voler rimanere a chateaubriand manor e sempre lei a essersi rimostrata entusiasta per essere stata inserita nell'equip di miller a sollevarla dalla risposta fu lillian che si era avvicinata in fretta penso che ci stiano seguendo annunciò a bassa voce janet sollevò distinto il capo mentre ellen rimase concentrata sulle mele che stava imbustando non guardare l'ammonì consegnò la spesa al venditore conscia che dietro ogni banco del mercato ci fossero le vetrine dei negozi chiusi per il giorno di riposo settimanale la superficie lucida le restituì il riflesso di due persone che sembravano osservarle dall'altro lato della strada si voltò di colpo come se volesse soltanto consegnare le busse alle due ragazze per alleggerire il peso sulle braccia e il suo sguardo indifferente vagò sulla coppia che le stava fissando rilassò le spalle sollevata vi guardavano solo perché a differenza nostra non avete certo l'aspetto di una servetta o di chi deve mandare avanti da solo una famiglia spiegò a lillian la quale era uscita in abiti eleganti che si confacevano più alle strade di french hill che a un mercato contadino la coppia che ora dava loro le spalle infatti era composta da un uomo e una donna che si tenevano a braccetto e confabulavano tra loro janet sospirò e rivolse un gran sorriso a lillian è tutto a posto siamo solo un po' nervose adesso rientriamo e prepariamo questa torta una cena ottima i miei complimenti agli chef Feuerbach portò il tovagliolo alle labbra e si pulì educatamente gli occhi puntati prima su janet e poi su jeremy che era appena entrato nella sala da pranzo come ellen aveva intuito janet aveva proposto di spostare la cena in cucina ma la consueta espressione impassibile del maggior domo si era tramutata in qualcosa di simile al panico in altre parole aveva sussultato impercettibilmente e sollevato un sopracciglio la tavola della sala da pranzo era stata quindi imbandita a festa e in quel momento jeremy era tornato per sparecchiare e servire loro la torta di miele cucinata insieme a janet oh michael ancora non è assaggiato ciò che ho preparato mi rise l'archeologa propongo un brindisi per il nostro jeremy che ci regala sempre pasti eccezionali Feuerbach sospirò se solo potessimo brindare come si deve cercò di incontrare lo sguardo del maggiordomo ma non ebbe successo e la stessa padrona di casa scelse di ignorarlo o non comprese la sua allusione se fosse stato per ellen il proibizionismo sarebbe potuto durare in eterno però solo in quel momento si chiese come fossero le cose in europa era concesso bere alcolici forse i soldati schierati in trincea durante la grande guerra si erano scaldati con una fiaschetta di whisky sperava non fosse stato così perché l'alcol offuscava le menti e loro avevano bisogno di essere lucidi non di morire senza neanche rendersene conto tornò alla realtà quando jeremy entrò trasportando la torta per blake che aveva partecipato ai festeggiamenti tanto quanto lillian ellen stava ancora pregustando il sapore del dolce quando un botto echeggiò nella stanza distinto ellen si buttò sotto il tavolo non aveva capito subito che tipo di esplosione fosse tuttavia guardando il vetro della finestra infranto riconobbe le grepe lasciate da un proiettile si alzò e si guarda intorno la sua bramata torta era finita a terra ma per fortuna sembrava che nessuno si fosse fatto male vide Fahuerbach estrarre la propria pistola e blake fare lo stesso il mio revolver ricordò non aveva ancora provato a usarlo ma altri colpi esplosero dall'esterno verso la sala da pranzo e l'idea più saggia che le venne in mente fu di correre nella propria camera per pendere il revolver nascosto nel baule si ritrovò ad agire a mente lucida forse perché in quel momento non rischiava la vita per un mostro ricoperto da tentacoli o un anfibio troppo cresciuto Ellen conosceva le pistole era già scappata una raffica di proiettili in passato e dopo gli avvenimenti degli ultimi giorni trovava quasi facile fronteggiare dei semplici umani mentre si lanciava giù per le scale notò qualcosa di inaspettato Jeremy che era scomparso insieme a lei stava tornando con più di un'arma in mano consegnò una pistola a Lillian e un'altra a Janet solo l'archeologa sembrava sorpresa da quel gesto non ebbero tempo di fare domande perché altri colpi furono sparati alle loro spalle da una direzione diversa come se loro assalitori avessero deciso di accerchiarli Ellen corsa alla finestra più vicina per vedere meglio riparandosi dietro il muro e il suo cuore mancò un battito quando si accorse che Feuerbach e Blake erano usciti Jeremy li stava seguendo in quel momento che cazzo fanno? alla sua destra Lillian stava provando a sparare attraverso la porta finestra aperta ma era chiaro che fosse la prima volta che lo faceva il contraccolpo, seppur lieve, la spinse indietro dal canto suo Janet non sapeva come agire e invece di usare l'arma afferrò il telefono per chiamare la centrale di polizia era un'ottima idea tuttavia Ellen sperava che i vicini ci avessero già pensato non sapeva quanto avrebbero resistito all'assedio non riusciva neanche a capire in quanti fossero a sparare a quel punto si rese conto che il rumore di vetri rotti era cessato e capì che la sparatoria stava continuando contro gli uomini all'esterno della casa si azzardò quindi ad affacciarsi meglio approfittando del buco dalla finestra più vicina per puntare l'arma nel caso ce ne fosse stata la necessità e diede un rapido controllo alla situazione Feuerbach era riparato dietro una siepe Blake e Jeremy si trovavano nel portico dall'altro capo del giardino anteriore gli assalitori si nascondevano oltre il cancello serrato non avevano provato a forzarlo ma avevano sparato direttamente attraverso le grate quasi le cadde l'arma di mano quando si accorse che i loro avversari erano più impacciati di lei riconobbe i profili di un uomo e di una donna per quel poco che riusciva a vedere sotto la luce fioca dei lampioni poi notò una seconda figura femminile arrampicarsi sulla recensione di ottone che correva intorno alla villa voleva tenerla sotto tiro nel caso si fosse avvicinata Blake e Jeremy che al contrario teneva ad occhio gli aggressori ancora all'esterno del giardino quando un movimento più vicino la colpì Feuerbach come lei stava puntando alla donna che aveva scavalcato la ringhiera e non si era accorto dell'uomo che invece correva silenziosamente verso di lui la pistola stretta, le braccia tese, pronto a sparare Ellen fu presa dal panico alzò anche lei il revolver, lo puntò all'uomo e fece esplodere un colpo che lo raggiunse alla spalla Feuerbach si voltò udendo lo sparo, l'uomo che impregava mentre lo sconosciuto cadeva a terra l'austerico rivolse a uno sguardo stupito a Ellen e ancora una volta alle spalle un grilletto venne rilasciato Ellen! Feuerbach corse verso di lei mentre Ellen teneva ancora la pistola in mano ora puntata verso il pavimento quando appurò che la ragazza era indenne Feuerbach le tolse delicatamente il revolver dalle mani e lo poggiò sulla superficie più vicina «Stai bene?» Lei esito deglutì e infine annui esalando un profondo respiro all'esterno le voci erano aumentate confermando ciò che Ellen aveva creduto di vedere la polizia era finalmente arrivata concessa a Feuerbach di premerle una mano contro la schiena come se temesse che lei potesse svenire in quell'esatto istante e si lasciò trasportare verso il divano «Mettila con le altre» udì dire la voce di Feuerbach l'austreaco si era rivolto a Jeremy che afferrò il revolver di Ellen mentre il suo interlocutore rivoneva il proprio sotto la giacca all'altezza della cintura «Teniamo solo la mia pistola e quella di Blake siamo gli unici ad essere autorizzati ad averle» era sensato perfettamente sensato come lo era il fatto che i due uomini sembrassero a posto dopo aver rischiato la vita in prima linea dopo tutto per quanto ne sapeva avevano fatto entrambi la guerra e lo stesso doveva valere per il detective quindi era normale che solo lei si sentisse priva di forze solevò il capo verso Feuerbach che si era rapidamente assicurato che stesse realmente bene «Sono al sicuro?» rispose lui alla domanda muta «Janet è un po' scossa ma la sua pistola non ha mai sparato mentre Lillian…» il suo sguardo vagò alla finestra rotta e solo allora le orecchie di Ellen smisero di fischiare e colsero l'urlo disperato che proveniva dall'esterno «Ha colpito la donna che aveva scavalcato la nostra ospite sta bene ma ha bisogno di una tisana e vorrei chiedere a te di pensarci Jeremy è impegnato con altro come avrei capito» Ellen annui ancora e si alzò le gambe di nuovo funzionanti e rigide coprì in pochi passi la distanza che la separava da Lillian che osservava la scena in giardino con occhi sgranati come aveva fatto Fahuerbach le poggia una mano dietro la schiena e la sospinse nella cucina dove trovarono anche Janet fu lei a preparare il tè per Lillian sconvolta per aver colpito un essere umano e questo permise Ellen di recarsi all'esterno per controllare di persona la situazione c'era una piccola folla al trecancello raperto curiosi che si miscolavano ad argenti già stufi di mandarli via tra loro si stavano facendo largo due barellieri chiamati forse da Janet insieme alla polizia per fortuna il loro gruppo era illeso ma ciò non si poteva dire degli assalitori erano due uomini e due donne la coppia che era rimasta fuori dal cancello era stata manettata e a parte i vestiti sgualciti e i capelli arruffati era sostanzialmente a posto mentre l'uomo colpito da Ellen si lamentava per la ferita alla spalla non aveva preso un punto vitale ma l'impatto ravvicinato del proiettile contro il muscolo lo aveva buttato a terra per il dolore la barella però era per la quarta persona la donna che Lilian aveva in qualche modo preso alla gamba perdeva parecchio sangue e urlava disperata con un lampo di consapevolezza l'attenzione di Ellen tornò alla coppia illesa riconobbi due che la stavano spiando al mercato e si diede dell'idiota per aver minimizzato l'accaduto forse Lilian aveva ragione la stavano seguendo e alla fine avevano scoperto dove vivevano ma la vera domanda era chi cazzo fossero? raggiunse Fowerback e Blake che stavano discutendo con un agente no Fowerback parlava Blake fissava il vuoto mi rincresce avrei dovuto capire che potevate essere in pericolo come avreste potuto non c'erano indizi hanno soltanto chiesto dove fosse la villa dell'arcivescovo lo so ma è inusuale capita raramente che delle persone si rechino in centrale per domandare l'ubicazione di una casa e e questo li rendeva ancora meno sospetti soltanto dei pazzi potrebbero rivolgersi alla polizia per sapere dove abitano coloro che intendono uccidere pazzi o disperati propenderai per la seconda ipotesi la gente guardò Ellen esitando ma Fowerback gli fece cenno di andare avanti stando alla dichiarazione di uno degli arrestati volevano giustizia Ellen stentava a comprendere di cosa stesse parlando il poliziotto la sua mente cercava un nesso tra quelle persone che come lei dovevano avere impugnato un'arma per la prima volta solo quella sera e tutto ciò che era accaduto dall'arrevo del gruppo ad Arkham impossibile che fossero i complici di Darkus non reggeva l'ipotesi di una giustizia personale come stava invece spiegando la gente si concentrò allora su Blake si era sbagliata il detective non stava fissando il vuoto bensì la donna in manette che urlava e urlava mia figlia avete acceso mia figlia queste persone vengono da Salem continua il poliziotto quando ormai ciò che era diventato chiaro anche a Ellen secondo la loro dichiarazione imputano a voi la morte delle loro due figlie avete idea di che cosa stiano parlando finalmente Blake a noi sì ma se sbagliano intervenne Fakuerbach prima che il detective potesse confessare altro ho bisogno che mi seguiate in centrale verremo volentieri ma potremo lasciare fuori le signore sono ferite? no sono un medico mi sono già assicurato della loro salute fisica tuttavia sono molto provate dall'attacco e non vorrei molto urbarle altrimenti Ellen sapeva di avere un aspetto più palido del solito dunque fu facile sostenere le parole di Fakuerbach mi occuperò delle altre entro in casa seguita dalle urla delle donne entrambolulanti di dolore e disperazione anche i loro mariti si erano aggiunti e a giudicare dall'espressione durea di Lillian lei stessa doveva aver capito con chi avevano avuto a che fare che muoiano tutti ringhiò la ragazzina finalmente Ellen corsa la porta sentendo le nocche di Fakuerbach a bussare sul legno lo aveva aspettato in piedi certa che non sarebbe riuscita a dormire senza sapere come fosse andata dalla centrale di polizia se qualcuno di loro fosse nei guai per essersi difeso o se peggio fosse stato scoperto un reale collegamento tra Blake Lillian e la morte delle due bambine allora cosa? fu interrotta dalle labbra di Fakuerbach che la baciarono voracemente mentre il suo corpo la spingeva contro lo stipite l'uomo la sollevò e la trasportò dentro chiudendo la porta con un calcio e continuò a baciarla contro la parete quando si allontanò le sembrava di non respirare da secoli mi hai salvato la vita spiegò Fakuerbach Mikael Mikael era stupido continuare a pensare a lui come uno sconosciuto non lo contraddisse sebbene non le sembrasse di aver compiuto chissà quale impresa sparando quasi a caso e rischiando perfino di colpire lui non lo contraddisse perché le piaceva il modo in cui la faceva sentire in quel momento così diverso dalle occasioni precedenti sembrava che fossero stati entrambi a un passo dall'essere uccisi ancora di più che a boss e i corpi di entrambi fremevano rimandarono le chiacchiere a dopo la situazione è risolta spiegò alla fine Fakuerbach nell'oscurità della camera da letto risolta nel senso che non dobbiamo più preoccuparci di sole ho spiegato che siamo stati assediati durante la cena e che io e il detective Blake degli unici a possedere un porto d'armi ci siamo solamente difesi ci hanno chiesto anche delle accuse a nostro carico ma Blake non si è fatto venire inutili scrupoli Lignan ci sarebbe andata di mezzo brava Blake non poteva lavarsi la coscienza in questo modo cosa sapevano le due donne la Brown e la Jupon avevano cominciato a parlare di possessioni ben prima dell'arrivo dei nostri assali e quando l'arcivescovo è stato trovato morto hanno agito nella maniera peggiore possibile che intendi la Brown aveva trascinato il cadavere su una stradina secondaria che collega il municipio alla scuola in modo che sembrasse che l'arcivescovo avesse avuto un malore mentre precedeva il consiglio cittadino dalla signorina Smith la polizia di Arkham non dubita del tipo di morte verso le 11 ha svegliato il medico legale di Salem e si è fatta dettare il referto c'era sangue nelle orecchie dell'uomo non poteva trattarsi di omicidio veleno perché controllare l'unica erede dell'arcivescovo non l'ha richiesta quindi un'emorragia è apparsa la soluzione più semplice poi però la Brown ha voluto fare di testa sua e si è messa a raccontare che la maestra era una strega e le bambine erano sotto il suo controllo mettiti nei panni dei genitori che hanno perso le figlie a causa di Blake due bambine sono morte per il crollo di parte dell'edificio scolastico e invece di fare le condoglianze Samantha e Madeleine hanno pensato bene di sottolineare quanto bene stessero ora le loro figliolette cazzo hanno fatto fuori entrambe le famiglie un giorno fa incolpandole di essere in combutta con un falso prete e con dei forestieri poi hanno capito che si erano spinti troppo oltre per fermarsi e hanno puntato a Lillian e Blake come li hanno uccisi non lo vuoi sapere sul serio Ellen non voglio dirtelo va bene mi sfogge però perché perché sia stato tutto così semplice per i presunti colpevoli intendi prova a pensarci uno era un rispettabilissimo uomo di chiesa mentre l'altra è la figlia di un senatore con il quale Blake ha una forte amicizia dubito che il nostro caro senatore Butler sappia qualcosa di queste accuse altrimenti avrebbe già mandato un paio di auto a prelevare Lillian il suo nome è bastato per fare ipotizzare alla polizia di Arkham e di Salem che alcuni genitori in lutto hanno deciso di trasformare il dolore in dendetta o giustizia come la vogliono chiamare avevano ragione in parte Blake non parliamone più adesso quei tre sono in cella e ci resteranno parecchio tre? Michael esitò ci mise qualche secondo per rispondere alla domanda di Ellen la quarta è morta in ospedale quella che Lillian ha colpito calo il silenzio un silenzio grave e pieno di significato che alla fine fu interrotto da una risatina inaspettata e fuori luogo da parte dell'uomo era una risata amara tuttavia ed Ellen ipotizzò che Michael volesse solo stemperare la gravità della situazione scusano non è il momento è solo che altro che nuova gestione della casa e troppi compiti per occuparsi della spesa il motivo per cui Lillian e Jeremy discutevano di nascosto e non ci volevano in giro era l'acquisto delle armi cosa? già me l'ha rivelato lui quando gli ho chiesto da dove fossero uscite quelle pistole in più stando la sua nuova padrona dovevate imparare a difendervi il fatto che sia riuscito a procurarsene addirittura oggi riva la due cose la prima è la nostra colossale fortuna nella merda in cui navighiamo e la seconda che nessuno può ottenere delle armi nel giro di una giornata il maggiordomo nasconde qualcosa ragazzina scivolò fuori dalle coperte e si rivestì in fretta lasciandola riflettere sulle ultime informazioni ricevute quando si chinò per baciarle la fronte però riuscì a lasciarla con un ulteriore quesito cerca di dormire domani partiamo la prossima alla prossima Grazie a tutti.